Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono sempre DarkGriever e oggi si continua con le missioni Arena di Tanzia andiamo ad affrontare di nuovo, indovinate un po', oh si, la gombi, la gombi, la gombi partiamo allora, cadana doppia spada, lancia fucile, mamma mia che schifo di lancia fucile allora vi mostro come al solito in casso oggetti, non c'è nulla, abbiamo tutto nella borsa reloading, la, l'infodero rapido, almeno quello ciao la gombi, no, no, venghi venghi signor la gombi così, gli facciamo vedere, facciamo sul serio anche lui gnie, gnie, rinfodero rapido venghi, venghi, venghi gnie, rinfodero rapido gnie super colpo del super canone vabbè, c'è ancora le orecchie ho le tue orecchie oh che bello ha la carica, tac, è questo, è questo, è super colpo, è puka ah, non sei così forte, ah, oh, oh, cazzo allora reloading, para 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 ah ah, boom, e dove bravo, complimenti stai fermo, fatti uccidere fermi pure, ah, che simpatico non mi avrai ah, ma perchè non staghi e' questo e' questo e' questo para para reloading ah, che scarso affanculo, bastardo non mi foderlo devo quotare si gioca pure con le palle ah, 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 ah il super cannon e... PARAPAM! Sublime! Sono troppo fotte! Impara, Proxy, impara, è così che si gioca! La! E ti scalco pure! E col tuo pronto soccorso, mi ripiglio la vita! Yeee! Ah, sempre bello fare questa bella gombi! Mamma mia, attenzione! Zannute, zannute, zannute! Monete, zannute! Sì! Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, vi state divertiti e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!